Per il secondo anno consecutivo Torrenova, Sant'Agata di Militello e Capodorlando non avranno un cartellone delle manifestazioni estive. La decisione dei sindaci Castrovinci, Mancuso e Ingrilli è stata presa a causa dell'impossibilità di programmare eventi, viste le forti restrizioni ancora vigenti in materia di spettacoli dal vivo. Non dobbiamo assolutamente creare equivoci, il fatto che insieme ai colleghi di Torrenova e di Capodorlando abbiamo visto di fare un comunicato congiunto sul cartellone estivo deriva proprio dal rispetto della normativa anti-covid anche perché non sappiamo gli eventi che si faranno, perché gli eventi si faranno come saranno organizzati di volta in volta e quali avranno possibile accesso a queste rappresentazioni. Quindi il fatto che non c'è il cartellone estivo non vuol dire che non ci saranno eventi. Gli eventi che di volta in volta dovranno essere organizzati nel rispetto della normativa anti-covid saranno regolarmente pubblicizzati e divulgati quando si faranno uno per uno. Quindi non si stilerà un cartellone per ovvie ragioni logistico-organizzative e normative, ma ciò non significa che non faremo delle manifestazioni di intrattenimento. Cureremo più l'aspetto culturale delle manifestazioni piuttosto che quello ricreativo e di spettacolo.